Siamo tutti e vogliamo intanto avviare, vogliamo attendere qualche minuto, poi se no avviamo intanto... Quest'incontro che era un aggiornamento tecnico di un'audizione dei giorni scorsi con la parte politica. Ho voluto partecipare personalmente, non solo rappresentando la Regione Calabria sotto l'aspetto istituzionale, ma anche per gli approfondimenti tecnici di questa riunione avvalendomi di alcuni aspetti che avevo già approfondito sotto l'aspetto professionale. Dall'interlocuzione odierna la Regione Calabria ha sicuramente tenuto un'impostazione molto simile a quella della Regione Sicilia, laddove abbiamo, forse anche in maniera un po' troppo decisa, evidenziato che questo tipo di metodologia ci può riportare indietro a dei percorsi che invece sono stati già fatti, perché abbiamo ribadito che di fatto un progetto del ponte sullo stretto c'è già, addirittura in questo momento abbiamo un progetto già cantierato e non cantierabile e l'abbiamo messo più volte in evidenza. Oggi l'attuale impostazione parla di analisi benefici-costi o analisi costi-utilità, perché vuole riprendere e riapprofondire alcuni aspetti inerenti alla mobilità o gli aspetti urbanistici. Pensiamo di aver dato ogni elemento per quanto riguarda la Regione Calabria, ripeto quasi in totale sintonia, anzi in totale sintonia con quello che ha rappresentato anche la Regione Sicilia, pensiamo di aver dato ogni elemento per chiarire quella che è la nostra posizione, ma non abbiamo ritenuto neanche di sottrarci da una prosecuzione in questo tipo di interlocuzione, perché vogliamo partecipare a questo tavolo e abbiamo preso l'impegno che mandiamo, renderemo tutto quello che oggi abbiamo detto, lo produrremo tramite una scheda di sintesi, in cui credo che le nostre posizioni, che oggi sono state ben chiarite, potranno essere ulteriormente formalizzate per essere ancora più incisive, laddove ancora ci fosse qualche possibilità di interlocuzione rispetto al percorso che il Governo ha già intrapreso. Tra le varie cose abbiamo anche ribadito in maniera abbastanza decisa che questo ragionamento non può prescindere dallo studio di fattibilità sull'alta velocità, alta capacità, che il Ministro qualche mese fa aveva dato come pronto entro fine anno. Anche oggi in questo tavolo abbiamo chiesto, rimaniamo in attesa ancora di vedere i contenuti dello studio di fattibilità, il quale studio di fattibilità non può prescindere dall'attraversamento dello stretto che è una parte integrante del corridoio 5 europeo. Questo l'abbiamo messo bene in evidenza e credo che sia una questione assolutamente inconfutabile.